Festa del Piemonte al Colle dell'Assietta, rievocata la storica battaglia. Salvaguardare e valorizzare il patrimonio del Piemonte, seduta aperta del Consiglio regionale. I soldati che fecero l'impresa, l'Assietta, il mito, la festa, convegno a Palazzo Reale. Bentrovati a questa nuova edizione di Consiglio News dedicata alle celebrazioni della prima festa del Piemonte. Partiamo dal Colle dell'Assietta dove domenica si è tenuta la rievocazione di una battaglia simbolo della storia del Piemonte. Si è svolta domenica al Colle dell'Assietta la rievocazione storica della battaglia del 1747. L'evento è inserito nella cornice della prima festa del Piemonte istituita con legge regionale da celebrarsi il 19 luglio di ogni anno per valorizzare il patrimonio identitario del Piemonte attraverso la promozione e la conoscenza dei suoi simboli e la tutela del patrimonio storico-culturale del territorio. Ad aprire la giornata organizzata dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Associazione Festa del Piemonte al Colle dell'Assietta, la cerimonia dell'Alza Bandiera. A seguire la celebrazione della Santa Messa in Piemontese, la commemorazione con le autorità all'obelisco e infine la rievocazione storica dei combattimenti, uno dei momenti più emozionanti della festa sulle fortificazioni originali ancora presenti sul Colle dell'Assietta. Tanti gonfaloni, tanti sindaci, qua vediamo proprio a 2500 metri la testa dell'Assietta la partecipazione di tanti piemontesi che hanno voglia di riscoprire tradizioni, scoprire anche un pezzo della nostra storia che non abbiamo dimenticato ma vogliamo rievocare costantemente come regione Piemonte. In questo luogo, a oltre 2500 metri di quota, il 19 luglio 1747 si combatté uno degli episodi cruciali della guerra di successione austriaca. Una data storica per il Piemonte. Le truppe Sabaude e le milizie valdesi, seppur in netta inferiorità numerica, 4.800 uomini contro oltre 20.000 transalpini, inflissero agli invasori francesi perdite per oltre 5.000 uomini. La strategia vincente fu quella di trincerarsi in due bastioni, respingendo gli attacchi nemici senza arretrare, nonostante il fuoco incessante degli invasori. Qui, il comandante dell'avamposto, il conte di San Sebastiano, pronunciò la frase, divenuta poi iconica, noi autri i bugiumanen da si, da cui derivò il termine bugianen, in italiano letteralmente, non ti muovere, riferito al temperamento caparbio, fermo e determinato dei piemontesi. Siamo qui per dare importanza a questo luogo, quello che questo luogo ha rappresentato per tutti noi piemontesi. Dobbiamo dirlo ai nostri ragazzi che questa è la montagna che ci ha portati dove siamo oggi. Una battaglia eroica perché 5.000 uomini hanno fermato 20.000 francesi e hanno impedito che i francesi arrivassero a Torino e occupassero tutto il Piemonte. La famosa frase bugianen ci deve ancora oggi animare nel non fare marcia indietro di fronte ai valori della libertà, della giustizia, per i quali i nostri padri si sono battuti. Salva guardare e valorizzare il patrimonio culturale piemontese. Seduta aperta del Consiglio regionale dedicata alla Festa del Piemonte, alla quale hanno preso parte esponenti del Centro Studi Piemontesi, dell'Associazione Festa del Piemonte al Colle della Sietta, di Confartigionato e Confcommercio. Riflettere sulla storia e le radici della nostra regione, questo l'obiettivo dell'Assemblea aperta del Consiglio regionale che si è svolta nell'Aula di Palazzo Lascaris, prevista dalla legge regionale allo scopo di favorire la conoscenza del Piemonte, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dell'originale patrimonio culturale regionale e di diffondere la conoscenza dello statuto e dei simboli della regione. Approfondire la conoscenza delle radici identitarie del Piemonte, le sue tradizioni con l'intento di unire ancora di più tutti i piemontesi, perché diventi la festa di tutti. Il gruppo della Lega, per voce dei consiglieri Alberto Preioni, Andrea Cane, Gianluca Gavazza, Walter Marin, Federico Perugini, ha sottolineato il contributo delle figure piemontesi che hanno reso la regione un luogo di eccellenza e innovazione. Guardiamo al futuro dell'identità piemontese coinvolgendo le scuole e i giovani. Credo che i giovani abbiano bisogno di certezze, di sicurezza, ma soprattutto di conoscere molto la propria storia, le proprie origini e sentire parlare piemontese o vivere questi torni piemontesi dove domenica veramente si respirava aria di Piemonte, non può che far bene, perché se non conosci bene il passato, non sei convinto della tua identità, guardi in modo meno positivo il futuro. L'occasione per far conoscere ai piemontesi una parte importante della loro storia che è poi diventata una parte importante anche della storia del nostro paese. E però è anche l'occasione per riflettere sul ruolo del Piemonte, sicuramente in Italia, ma anche nel contesto europeo. Per il nostro paese l'Europa è uno sbocco naturale e il Piemonte è davvero la sua cerniera. Trovo che sia stato molto bello che il Consiglio regionale abbia accolto la voce dei territori e abbia istituzionalizzato questa festa che ha saputo trasformare il sogno di qualche poeta, visionario e costruttore, ho aggiunto io, e farla diventare adesso realtà istituzionale. E quindi da oggi comincia un nuovo cammino. E ora entriamo nelle sale di Palazzo Reale dove si è tenuto un seminario animato curato dallo storico Michele D'Andrea dedicato ai soldati che furono protagonisti della battaglia della Sietta. Curiosità, aneddoti piccole e grandi vicende che hanno costruito l'epica giornata del 19 luglio 1747 che ha cambiato per sempre le sorti del Piemonte. I soldati che fecero l'impresa, la Sietta, il mito, la festa, agli eroi della storica battaglia è stato dedicato l'incontro che si è svolto nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Reale. Un racconto fra storia, cronaca e vita quotidiana con curiosità e retroscena curato dal divulgatore storico Michele D'Andrea. Gli eroi sconosciuti, l'altra pagina della storia, quella con la S minuscola che però costruisce la S maiuscola, devo dire è una bella passeggiata, grandi relatori, ma soprattutto questo modo di raccontare la storia che ha incuriosito. Una chicca ce la può dare? Ce l'ho qua, le palle girate, no ma alla fine era per dire che nella Grande Guerra la palla girata era questa, si girava la pallottola per avere un effetto devastante, molto più una sorta di pallottola dundum, da qui il detto avere le palle girate, cioè detenere le palle girate, sparare le palle girate, quelli più cattivi, quelli da cui era bene tenersi alla larga. L'incontro promosso dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l'Associazione Festa del Piemonte al Colle dell'Assietta è stato aperto dal presidente Stefano Allasia e ha visto la partecipazione di Lorenza Santa, curatrice delle collezioni di Palazzo Reale, dell'uniformologo Enrico Ricchiardi, dello storico Eugenio Garoglio e del vicepresidente del coordinamento Rievocazioni Storiche 1600-1700. La voce di Mario Brusa ha scandito i momenti recitativi della mattinata, mentre le suggestioni sonore del XVIII secolo sono state affidate a musicanti dei gruppi Pifferi e Tamburi di Santià e di Arnà. I musei reali e Palazzo Reale partecipano naturalmente a questa giornata così importante per la storia del Piemonte Sabaudo nell'epoca dell'antico regime. Il Palazzo Reale possiede due opere straordinarie, del pittore fiammingo Giacinto Lapegna e anche naturalmente di Massimo D'Azeglio e quindi vi è davvero un invito a venire a riscoprire le nostre collezioni d'arte e rileggere appunto il dramma di quella battaglia attraverso i colori e appunto la sensibilità dei due grandi artisti. Anche la mole antonelliana celebra in questi giorni la festa del Piemonte con la proiezione grafica di uno dei simboli dell'identità regionale, il drappò, la bandiera del Piemonte. Altro evento organizzato dal Consiglio regionale è lo spettacolo teatrale Piemonteis Bugionè a cura del regista e autore Giulio Graglia alla chiesa di Sant'Uberto della Venaria Reale. Un viaggio nella storia della nostra regione attraverso racconti e monologhi interpretati da volti noti dello spettacolo, della moda e dell'enogastronomia. Chiudiamo questa edizione dedicata alle celebrazioni della prima festa del Piemonte. Vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie a tutti i nostri spettacolo,